allora intanto che aspetto qua bene ciao amici intanto che aspettiamo che si connetta un po un po di gente che devo svelarvi una sorpresa proprio raga cioè voi non avete idea di cosa c'è in pallio ma perché ho dei capelli nel cavolo io aspetto un po allora ciao a tutti intanto vi saluto un po manzani oddio la camilla ciao piccolina ciao mio cuginetto foglieni luca ciao a chiara ah ciao nonno mi stai guardando anche il nonno ciao nonno poi chiara ah sami ciao sami come stai stai bene peppino come stai tutto a posto ciao cami sempre dolcissima alessia ciao allora madonna raga ve lo giuro che è odioso quando ti bruciano i capelli e gli hai corti no per lunghi dodò i claudio eccolo qua io sto bene raga sono appena tornata dalla parrucchiera ho appena finito di fare la spesa ho super fame però la sto trattenendo solamente per svelarvi cosa c'è in pallio per voi raga un super premio una cosa che volete tantissimo cosa volete tantissimo cosa volete tantissimo ditemelo ditemelo ciao bari allora intanto vi metto un commento sto scrivendo un commento per partecipare al giveaway adesso vi spiego meglio vediamo se raga io le dirette ne faccio veramente poche ok fissato in alto sono un genio sono un fucking genius niente allora vi spiego avevo accennato un po di giorni fa che avrei fatto una mega sorpresa insieme a bidu ok allora bidu innanzitutto cos'è bidu bidu è un sito di aste dove potete vincere i vostri prodotti preferiti cioè vincere potete ricevere uno sconto per ricevere questi prodotti pari al 99 per cento esempio ieri hanno vinto un iphone xr a 99 centesimi e un buono di amazon dal valore di 125 euro a 2 euro e 88 è il mio amico filippo guardalo qua non sei bravissima a fate tu non sei bravissima neanche a scrivere allora che non sai neanche scrivere va la la fil 47 le allora ciao filippo sei bene tutto a posto è comunque bidu ecco quindi adesso vi spiego cosa c'è in paglio c'è in paglio un iphone xs a 64 giga cioè uno di voi lo può vincere come può fare per vincerlo allora prima cosa deve seguire bidu italia mamma sto facendo la diretta ovviamente mia mamma è sempre quella che mi viene interrompere vabbè comunque ricapitolando per vincere l'iphone xs da 64 gigabyte ok dovete seguire bidu italia il profilo di bidu italia ok che poi vi taggerò in una storia comunque si scrive bidu bidu italia iscrivervi gratis troverete sul profilo il link del sito ok vi iscrivete gratuitamente a questo sito e commenterete una volta iscritti al sito il post sul profilo troverete un post l'ultimo credo del giveaway ok dove c'è in paglio l'iphone xs da 64 giga lo commenterete con il vostro username perché perché vuol dire che vi siete iscritti quindi avete messo un username per il profilo di bidu ok quindi commentate il post il giveaway con il username del profilo più taggate tre amici ok questo dovete fare praticamente l'estrazione avverrà il 27 marzo e oltre a ricevere un iphone cioè rullo di tamburi sarò io a consegnarvi l'iphone capito? quindi io vi porterò direttamente l'iphone cioè raga ditemi adesso cosa volete di più veramente cosa volete di più niente cioè penso proprio niente a parte i miei capelli del cavolo ecco io vorrei invece dei capelli nuovi quanto mai comunque saluto un po' ah la capi ciao piccolina come stai? come sta la mamma? bene? bene ok raga quindi volete che vi rispieguo un'altra volta tutte le procedure o siamo a posto così? no perché se no ve le rispiego un'altra volta no cami si è mia mamma che continua ogni volta a interrompermi ogni volta che faccio le storie c'è lei che mi interrompe o quando faccio qualsiasi cosa eh si chiara esatto ci possiamo abbracciare perché io vi porterò l'iphone e verrò io cioè io in persona cioè fisicamente io capito? quindi possiamo abbracciarci allora ecco per chi è appena arrivato vedi mi stanno dicendo che sono appena arrivati niente vi sto dicendo che raga potete vincere un iphone xs da 64 gigabyte sul profilo di Bidoo che è quel sito di aste dove ci sono dei sconti pazzeschi fino al 99% ok per vincere l'iphone xs da 64 gigabyte consegnato direttamente da me cioè lo consegno io cosa dovete fare? dovete seguire Bidoo Italia che si scrive B-I-D-O-O Italia su Instagram sulla bio ci sarà nella bio ci sarà un link schiacciate il link vi scrivete a Bidoo ok dopodiché una volta iscritti avrete il vostro username per il sito di Bidoo e cosa dovrete fare? dovete andare sul profilo Instagram di Bidoo andare al post del giveaway che è l'ultimo pubblicato commentare con il vostro username che usate per Bidoo e taggare tre amici ok l'estrazione poi verrà fatta il 27 marzo detto questo io raga ho detto tutto a parte l'iphone vi porto anche un caffè certo poi cosa vuoi? anche la torta porto anche la torta se vuoi bravo Petrone Loris che comincia a seguire la pagina bravo bravo comunque l'avete scritta nel commento nel commento ma ecco chiami qualcuno raga ma non vanno le videochiamate cioè non mi vanno proprio le chiamate le videochiamate non mi vanno non so come fare se avete dei suggerimenti siete pregati di dirmele dirmele in direct va bene i bimbi della Ludo sempre presenti la maglia della Juve ecco perfetto volevo dire anche questa cosa qua l'estrazione per la maglia della Juve avverrà domani mattina ok tarda mattinata perché siete tanti sono tanti i commenti io sono super presa in questi giorni e sarà peggio che andando avanti vi dico solo che ho un programma raga due video musicali non miei adesso lo vedo a fare la protagonista vi dico solo quelli vi dico solo quello pazzesco e poi ci sarà anche esatto sto lavorando il mio prossimo pezzo quindi detto questo vi saluto vi auguro un buon venerdì sera un buon venerdì sera mi raccomando se avete dei dubbi io salvo la diretta riguardatela e siamo tutti a posto grazie a tutti grazie a tutti